Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 5 novembre 2021 e la frase del giorno è questa di Tom Peters, scrittore statunitense. Lasciate che ve la legga! Focalizzatevi solo sui punti di forza di ogni individuo, non cercate di renderlo perfetto. Al contrario, fate tutto quello che potete per aiutarlo a coltivare il proprio talento. Aiutatelo a diventare un po' di più di quello che è già! Beh, insomma, non è filosofica come frase, non è pesantemente filosofica come frase, però, insomma, diciamo che ci descrive un approccio all'altro che non... a vedere il mondo come va oggi, insomma, è facile dire che la gente non sa approcciarsi agli altri. Ecco, insomma, aiutare gli altri. Spesso aiutare gli altri, appunto, spesso si aiuta gli altri concentrandosi sulle loro debolezze e aiutandoli a non avere più debolezze. Mentre qua, Tom Peters ci dice il contrario, tu aiuta una persona a coltivare il proprio talento. E io sono anche d'accordo, lasciate che le debolezze degli altri siano curate da loro stessi, così lasciamo loro qualcosa da fare, se no facciamo veramente tutto, gli aiuti nelle punti di forza, gli aiuti nei punti deboli e poi poi questi da soli che fanno, non fanno niente, li hai fatti tu, complimenti, l'alchimista, no? Che si sa, la pietra filosofale per trasmutare l'oro in piombo in realtà è la conoscenza per trasmutare una persona comune in una persona di cultura, altro che interpretazioni letterari. Comunque, sì, insomma, focalizzatevi solo sui punti di forza di ogni individuo, non cercate di renderlo perfetto. D'altra parte, la perfezione non esiste. La perfezione non esiste, la perfezione è una ricerca degna della mente razionale che giudica ogni cosa come imperfetta e allora aspira a un ideale che non potrebbe esistere. In realtà la perfezione esiste nella capacità di accogliere l'imperfezione, perché l'accoglienza perfetta è l'accoglienza della diversità e dell'imperfezione. E quindi anche lì, cioè, cosmicamente, quel luogo dove la perfezione esiste è l'accoglienza. Così come poi l'unica cosa costante è il cambiamento, quindi nella totalità delle cose troviamo ovviamente che esistono anche queste cose, ma esistono nei casi limiti dell'esistere. Comunque, insomma, tendendo all'altro, fate tutto quello che potete per aiutarlo a coltivare il proprio talento. Bella questa frase perché, ad altra parte, si tratta di mettersi, quello che si intende qui è quello di mettersi accanto a una persona e non imporle neanche il percorso di crescita, che anche il percorso di crescita, di sviluppo può diventare un'imposizione, una catena che è sentita come una prigionia. È un po' quello che fa la scuola oggi, perché la scuola chiaramente nasce come luogo di crescita per i ragazzi, che è una cosa sacrosanta. Se non aiuti un ragazzo a crescere, poi ti resta incapace. Poi questa cosa può ovviamente diventare una prigione. Le scuole possono diventare prigioni dal momento in cui si costringono i ragazzi a fare qualcosa che non sia la loro passione. E lì è tremendo. E quanti ne ho viste di persone così, mamma mia. E per quanto... ha maggior ragione. Ha ragione, ha ragione. Se una persona non è portata verso una cosa, ma non perché dimostra una incapacità intrinseca. Non è portata perché non dimostra una passione interiore verso quella disciplina, verso quell'attività. Ecco appunto, oggigiorno abbiamo dei sistemi scolastici dove si costringono le persone, le personcine, i giovani, a fare di tutto a 360 gradi senza la possibilità di scegliere. Al massimo uno può scegliere fra scientifico, classico e qualche altra manciata di stupidaggini. Ma io trovo pazzesco che una persona non possa scegliere matematica e musica insieme. Che non possa scegliere greco e integrali insieme. Che a oggigiorno non abbiamo per i ragazzi, non c'è un'offerta formativa che ti faccia fare greco antico e allo stesso tempo ti faccia studiare limiti derivati e integrali nello stesso luogo. Cioè è una cosa pazzesca. Poi ci sono paesi diversi dal nostro, dove invece i ragazzi possono, all'interno di certe discipline, che sono quelle con un minimo di ore, possono poi scegliere che cosa studiare all'interno dell'offerta formativa data dalla scuola, dall'accademia. Perché non dovrebbe essere così? Perché non dovrebbe esserci la libertà di scelta? Perché non dovremmo crescere le persone educandole a capire da sé, dentro di sé, che cosa vogliono fare. A capire poi come cambiano. Perché non è che io un anno scelgo una cosa e dopo due anni mi devo vincolare alla scelta che ho fatto due anni prima. Perché? Tutto cambia perché non bisogna lasciare la libertà di cambiare pure ai ragazzi. Cioè, una cosa pazzesca. Poi la gente fa lo scientifico e poi va a giurisprudenza. A giurisprudenza incontra il professor Costabile che come prima cosa ti chiede tu che liceo hai fatto e se non hai fatto il classico iniziano i pregiudizi. E poi non passi l'esame di storia di diritto romano. Sono cose che accadono in quel di Reggio Calabria. Mie cari spettatori, miei credo psicocriminali, devo scappare. Quindi grazie per la televisione, grazie per l'attenzione. Vi auguro il meglio e solo il meglio. E vi saluto fino al prossimo video. Ciao!